Cari amici, un cordiale saluto. Questa volta un cordiale saluto incazzato, sì, proprio arrabbiato, perché qui in Basilicata, a Potenza, nell'Inderland e quant'altro, sta succedendo qualcosa di incredibilmente ignobile e noi non ce ne accorgiamo. Praticamente pare che in quasi tutte le famiglie ci sono ragazzi drogati. Sì, oggi parliamo di droga, parliamo molto velocemente molto incazzati, perché stanno succedendo delle cose inaudite, inaudite, a dire poco inaudite. Morti per overdose stanno diventando quasi la quotidianità, è come se fosse un tamponamento. Due macchine si sono tamponate e va a boffesserire, un tamponamento non fa granchi notizie. Un giovane è morto per overdose, non fa notizie. Una giovane è morta per overdose, non fa notizie. Oramai sta diventando talmente una routine, questo fatto della droga, che Montereale è oramai diventato il parco della droga. Montereale era il parco dove si divertiva, Montereale era il parco di Potenza dove l'estate si ballava, al massimo un bicchiere di birra, quello poteva scappare, ma io non ho mai visto ubriachi negli anni 60, 70, 80, mai visto scene raccapriccianti. Ma da un periodo di tempo a questa parte Montereale è diventato il parco della droga. Ma è possibile che dobbiamo assistere a un fenomeno così forse facile da debellare? Forse, dico, ci ho messo il forse, perché se ci mettessimo tutti quanti insieme, insieme dal prefetto al questore, dai carabinieri alla polizia, dalla guardia di finanza, che so io, ai vigili del fuoco, che toglie, ai vigili urbani, a noi cittadini, a noi comuni cittadini, se ci mettessimo di pulso buono tutti quanti, secondo voi non riusciremmo a debellare, o quantomeno allenire, a portare a percentuali minime questo fenomeno che sta diventando sempre più brutto, io questa trasmissione voglio fare per sensibilizzarvi, se avete un minimo di sensibilità nel vostro cuore, se avete un minimo di sensibilità lasciate stare i partiti o coloro i quali evidentemente fanno politica solo ed esclusivamente per interessi propri, ma cerchiamo di sensibilizzare anche le istituzioni, cerchiamo di far scendere in campo la presidenza della regione Basilicata, della provincia di Potenza, del comune di Potenza, vediamo di fare un sit-in, se vogliamo fare, non so, vediamo di organizzare, per esempio nella piazza Mario Pagano, faccio un esempio, un giorno antidroga, che tutti quanti i cittadini, dal, ripeto, presidente della regione, la giunta regionale, i consiglieri regionali, gli impiegati regionali, gli impiegati dal presidente della provincia, gli impiegati consiglieri, tutti, tutti, tutti della provincia, dei comuni, della regione e quant'altro, vediamoci a piazza prefettura un giorno di questo, vediamo di far intervenire anche il prefetto di Potenza scenda in campo, scende in campo il questore di Potenza, il capo della guardia di Finanze, tutti, tutti, io non so, sono incazzato, si vede sono incazzato, perché evidentemente quando arrivano sulla mia scrivania dei comunicati stampa, che sembrano oramai cose all'ordine del giorno, vi faccio vedere questo che è arrivato il giorno 27, non so se Saverio può inquadrarlo, questo è arrivato il giorno 27 dalla regione dei carabinieri di Basilicata, Saverio ci sei sopra, io non vedo, sono senza monitor, non so se stai inquadrando o meno, forse si può anche leggere o no, ce la fa più o meno, poi lo leggo io, magari, ve lo faccio vedere, ve lo faccio vedere, ve lo faccio toccare con i vostri occhi, alza poco poco, sì, ve lo faccio toccare con i vostri occhi, non ve lo faccio vedere, ve lo faccio annusare con i vostri occhi, ve lo faccio palpare, ve lo faccio entrare nel cuore, nell'anima con i vostri occhi, ve lo faccio, come dire, ascoltare con le mie parole, che poi dice Postiglione si incazza, Postiglione non di quello, ma no, Postiglione quando c'è, quando ce vuo ce vuo, parliamoci chiaro, noi dobbiamo giocare, scherzare, fare della vita anche delle informazioni, un'informazione diciamo artistica, utilizziamo il termine artistica, possiamo fare anche una televisione per evadere, l'informazione per evadere, ma leggiamo il comunicato stampa, leggiamo il comunicato stampa della legione carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, questo è un comunicato stampa del 27 agosto, i carabinieri del personale del 118 soccorrono una giovane in crisi di overdose, verso le 12.30, ripeto, del 27 agosto del 2009, il 112 pronto intervento dei carabinieri di Potenza giungeva su una richiesta di soccorso da parte di alcuni cittadini, i quali segnalavano che nel parco Montereale vi era una ragazza che presentava i classici sintomi di un malore dovuto ad overdose, l'immediato intervento dei carabinieri della stazione di Potenza e del personale del 118 hanno evitato il peggio, infatti il personale paramedico ha subito operato alla giovane un'iniezione di Narcan, destandola dalla crisi respiratoria e diagnosticandola, diagnosticandola una overdose da oeroina. Sul posto è stato identificato anche un giovane di Novara, che si trovava in quel momento in compagnia della ragazza e che con lei aveva condiviso lo stupefacente. Sul luogo sono state rinvenute le siringhe utilizzate per consumare lo stupefacente, delle quali, poste sotto sequestro, sono state inviate al laboratorio analisi di sostanze stupefacente del comando provinciale dei carabinieri di Potenza. Per ulteriori accertamenti, entrambi sono stati segnalati alla prefettura di Potenza per uso di sostanze stupefacenti. Praticamente non è successo niente, se fossero arrivati i carabinieri del 118 con un lasso di tempo un pochino più di ritardo, a quest'ora avremmo avuto un'altra morte. Una volta c'era un vecchio proverbio napoletano che diceva arrubata a Santa Chiara fanno le porte fir, cioè significava che c'era stato un furto alla chiesa di Santa Chiara di Napoli, hanno fatto il furto, adesso mettiamo le porte di ferro in maniera tale che non fanno più furti. Ma qui neanche questo proverbio vale, è morto un giovane, è la morte di questo giovane, è morta una giovane, è morto un ragazzo, sono morti molti ragazzi in Basilicata. Dico, vogliamo mettere le porte di ferro affinché questo fenomeno non accada più? Vogliamo cercare di dare un contributo fattivo? Beh, adesso vediamo un pochettino chi ha, diciamo così, la responsabilità. Vediamo di fare una squadra composta da tutti i cittadini, da tutto il centro sociale. Invito anche la chiesa, mi sono dimenticato prima perché poi dopo nella foca io poi mi inalbero, ho questo microfono, lo metto a disposizione di chiunque, sono sempre con il mio telefonino acceso, il mio telefonino è acceso sempre, 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 solo quando dormo lo spengo. E voglio dire, e dormo poco quindi il mio telefonino è spento poco, 335 61 040 61. Se avete un minimo, un barlume di voglia di combattere questo fenomeno, beh, diamoci da fare. Coraggio, chiamatemi, vediamo di organizzare una manifestazione che non deve essere fine a se stessa, una manifestazione nella quale si progetti un programma, si progetti un nuovo progetto, si faccia un progetto come combattere, come mettere a disposizione dei carabinieri, delle forze dell'ordine generale, parlo dei carabinieri perché questo comunicato è arrivato dai carabinieri, come mettere in condizioni i carabinieri di lavorare meglio, come mettere in condizioni le forze dell'ordine generale di lavorare meglio, come mettere in condizioni le porte della nostra città, della nostra regione affinché non entrino, non entrino, non entrino, come mettere delle sentinelle a guardia della città e della regione, se vogliamo, affinché non entrino prodotti stupefacenti. Come possiamo fare per combattere questa cosa sensibilizzando anche le scuole, sensibilizzando tutti, tutti, quando dico tutti, tutti, potrei dimenticare qualcuno, come per esempio prima ho dimenticato la chiesa e adesso sto citando la scuola, magari posso dire anche i cassa integrati, anche coloro i quali, che se io non hanno, diciamo, sembra che siano fuori dalla società civile, gli emarginati della società civile, tutti, 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 ma che significa tutti? Vediamo di fare questo blocco, possiamo fare queste cazzarole di porte di ferro? Sì o no? Oppure dobbiamo sentire un'altra notizia fra un giorno o due di un'altra situazione del genere? Diciamo ma siamo proprio dei fessi. Il nome di questa ragazza non si sa, lo sa il padre, la madre forse, stanno piangendo. Il nome di questa ragazza, come tanti altri ragazzi, come tante altre vicissitudini che si chiudono e si consumano nelle mure domestiche, lo sanno solamente loro, ma dobbiamo essere a viverle non in prima persona, farle vivere in prima persona, ma dobbiamo vivere in prima persona, noi. Io mi chiamo Bonaventura Postiglione e che Dio raddoppia a voi quello che voi augurate a me. Buona vita a tutti, specie ai drogati.